La ripresa sarà modesta per anni perché si sono distrutte due fondamenti su cui si è costruita la ricchezza in Europa negli ultimi anni. Il primo è il fatto che eravamo solo noi a produrla e adesso non è più così e quindi sicuramente non è che c'è un altro pianeta da utilizzare. La seconda è che riguarda soprattutto i paesi in Eurolandia che non siamo più padroni della moneta, quindi non decidiamo più noi quanti soldi girano, quanto costa e la velocità con cui girano questi soldi. Il vero problema è che uscire dall'Euro avrebbe un effetto psicologico micidiale perché nessuno si fida della solidità dei debiti pubblici dei singoli paesi europei, tantomeno di quelli nostri che come è noto sono elevati. Quindi è una strada molto semplice tra il rischio del default e la certezza di una moderata crescita degli anni e gli europei sono abbastanza vecchi per scegliere la seconda.